Ha fatto salire un cliente in automobile, come al solito. Qualcosa però è andato storto, una discussione, poi una lite, quindi il colpo alla gola con un coltello. È morta così, nella notte tra sabato e domenica, una transessuale di 63 anni, all'anagrafe registrata con il nome di Salvatore Episcopo. Il suo corpo è stato ritrovato a bordo della sua vettura, una Fiat 500 L bianca, con una profonda ferita d'arma da taglio alla gola. La polizia, nelle ore successive, ha fermato un ragazzo di 34 anni, Simone Castoro, che, si apprende, è già in cura per problemi psichiatrici. Gli investigatori stanno indagando sui motivi della lite, ma al momento sembrerebbe esclusa la pista che porta alla tentata rapina. A segnalare il corpo alla polizia, un gruppetto di tre giovani che, intorno all'1.30 di domenica mattina, in via alle giochi del Mediterraneo, ha visto sbandare un'automobile e prendere in pieno un'altra vettura, che si è allontanata velocemente. All'interno dell'abitacolo, il corpo senza vita della transessuale. Probabile che la sbandata sia stata causata dal suo tentativo di resistere all'aggressore. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, dopo le analisi che verranno effettuate sugli abiti sporchi di sangue di Castoro.